Parco naturale del Po Piemontese, un polmone verde di biodiversità oggi protetto ma che la regione guidata da Cirio vuol svendere i cacciatori residenti anche in altre regioni. Ma perché? Vediamo un po' come stanno le cose. Il parco naturale del Po Piemontese fu istituito con la legge regionale del 27 marzo 2019 numero 11. In precedenza le singole aree lungo il Po in Piemonte di particolare valore ambientale, paesaggistico oppure minacciate da possibili espansioni edilizie erano tutelate mediante un sistema di riserve naturali, aree attrezzate e zone di salvaguardia. Tali aree erano gestite da tre differenti enti parco ma facevano tutte parte del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con la legge regionale del Piemonte numero 28 del 17 aprile 1990. La successiva legge regionale, quella numero 11 del 27 marzo 2019, stabilì che tutte le singole aree protette presenti lungo l'asta fluviale del Po in Piemonte costituissero un'unica area protetta, il parco naturale nel Po Piemontese. L'elemento principale che caratterizza il parco è chiaramente il fiume Po, il più lungo ed importante fiume d'Italia. E questa è la zona istituita e quella che vorremmo continuare a proteggere. Non è che sia chissà che cosa, salviamola per favore. Il parco naturale del Po Piemontese comprende anche il bosco della partecipanza di Trino e delle grange vercellesi. Il bosco della partecipanza è un magnifico relitto del passato che preserva ed arricchisce la biodiversità. Le sue aree attigue andrebbero curate e preservate e non lasciate ai cacciatori per sterminare quel poco che è sopravvissuto. ecco un magnifico ibis, ormai sono autoctoni in questa zona. Un tarabusino, magnifico, bellissimo. Questo è un cavaliere d'Italia con i suoi piccolini. Un tarabuso, magnifico. Un martin pescatore, ce ne sono ancora qualcuno, li ho visti. Una beccaccia. Un fagiano, un magnifico fagiano. Queste sono alcune della biodiversità che esiste in queste zone. Guardate che elenco. Non perdiamolo, non perdiamoli questi animali. Non ci mandiamo ai cacciatori. Che cosa è successo? Perché si vuole tornare indietro? Nella riunione del Consiglio dell'ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese del 22 febbraio 2023, si è discusso sulle istanze presentate da alcuni comuni e associazioni, attenzione, su richiesta della regione, relative ad una revisione dei confini del parco e dell'area contigua. Cioè una zona intorno al parco in cui la caccia è consentita, ma solo a coloro che risiedono nei comuni inclusi nell'area contigua. Cacciatori e agricoltori, unitamente alle province di Vercelli e ai comuni di Ronsecco, Saluggia, Fontanetto Po, Tricerro, Crescentino, Trino e Livorno Ferraris chiedono per il territorio vercellese l'abolizione delle aree contigue e la riduzione delle aree protette, tornando quindi ai confini del 2020, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 che ha definito alcuni ampliamenti. Tra l'altro questo consegue la cancellazione del recentemente istituito parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle grange vercellesi. Ma perché tutto questo? Semplice, per andare a caccia. La scusa è quella dei cinghiali, ma tutti sappiamo che ai bergamaschi e ai bresciani dei cinghiali non importa nulla. Loro cacciano la piuma, il che significa che ammazzeranno quelle poche anatre sopravvissute. Evidentemente a noi altri va bene così. Eppure sappiamo che dove necessari gli interventi di controllo dei cinghiali devono essere pianificati, coordinati e continuativi e non lasciati alla mercè di cacciatori che giocano. Eccoli qua, pronti ad uccidere tutto quello che vive, tutto il dividente rimasto. Per farla breve, questa biodiversità, ormai rarissima anche in queste zone, è ulteriormente in pericolo. Il ridurre le zone protette per lasciarle nelle mani, oltre che dei cacciatori residenti, anche di quelli provenienti da altre regioni, non fa che peggiorare la situazione. Ma per quale motivo penalizzare ulteriormente con una caccia ormai anacronistica una fauna che fa fatica ad esistere? Ma per quale strano motivo noi altri della natura l'amiamo solo a parole? Abbiamo invaso tutto, cementificato tutto, inquinato tutto, le zone riservate agli animali sono sempre di meno. Per quale motivo accanirci così tanto contro di loro? Tra l'altro queste aree protette dispongono di un'alberatura che assorbe CO2 e tutti sappiamo di quanto ne abbiamo bisogno oggigiorno. Inoltre, in caso di esondazione, ci sarebbero zone alberate che frenerebbero l'acqua. Resistiamo a queste decisioni, facciamo sentire la nostra voce, non torniamo indietro come i gamberi. Avevamo finalmente il parco fluviale del Po. Ebbene, lasciamolo così come si era deciso. Per quale motivo cambiare di nuovo?